A San Carlo c'è stato un episodio increscioso, l'orchestra ha suonato l'inno spagnolo di epoca franchista, lei chiede racconto a San Carlo di questo errore? Anche Felipe c'è parecchio, io conosco molto bene Berlaciao, mi dovete scusare ma non sono un esperto di inni stranieri, posso essere molto d'accordo con quello che state dicendo che è un episodio talmente increscioso che il Presidente della Repubblica italiana ha dovuto prestare le scuse, sinceramente non me la prenderei con i bambini perché poi sono uno spettacolo straordinario, quel coro delle voci bianche insieme alla Sanit Ensemble del rione Sanità, semmai effettivamente visto che era un incontro dove c'era il Presidente della Repubblica, Felipe, Juan Carlos, il Presidente del Portogallo eccetera, chi doveva portare gli spartiti ai bambini doveva essere più attenti, poi sapete con me la riflessione l'ha trovata aperta, nel senso che è un po' da tempo che vado dicendo che il San Carlo meriterebbe comunque anche una sovrintendenza di diverso valore, però non voglio cogliere questo scivolone per fare una considerazione di questo tipo, però non può accadere una cosa di questa e quindi il mio apprezzamento va ai bambini che sono stati bravissimi, che non hanno neanche provato perché l'hanno detto pubblicamente, insieme hanno creato questa commissione straordinaria tra il rione Sanità e le bimbe e i bimbi e le ragazze e i ragazzi e il coro di voci bianche, però sicuramente quando accadono queste cose non devono accadere.